Siamo qui alla scuola di un filista Cristina Telezzani, in occasione della giornata della moda. Buongiorno, professor. Grazie mille. Grazie mille. Cosa hai fatto nella creazione di questa nuova collezione? Anche questa stagione ho lavorato su Venezia, nel senso che adesso è il posto dove mi sento meglio al mondo. Io sono tra Venezia, solo in Veneto e Milano. Ho voluto questa stagione lavorare sul piccolo mondo di Venezia, soprattutto quello che va di fuori dei turistici, i ragazzi che stanno a Venezia, la gente che vive in Venezia. E quindi ho fatto questa sorta di contemporaneo, tale, per rimorre a Venezia, in cave contemporanea, nel senso che i luci sono molto sofisticati, però hanno tutto il mio printing, molto sport. Nel senso che ho preso i froccati che ho trovato negli appunti di Venezia, però ho già fatto dei jogging, delle canotte, e quindi tutto è molto più naturale, molto sport. Perfetto, grazie. E come vede la donna e l'uomo nella primavera in Sass 2020? Come ne erano esi? Guys, you can start. Scarte, scarte comode, camminare, le giacche sono più lassate, le sciolte, le cose che si sono molto bene, è tutto molto relax. Immagino che anche i distanti siano adeguati al tuo stile. Assolutamente, siamo tutti insperati a Venezia, i broccati, le righe, le stelle, però tutti in realtà molto relax. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie mille. Buon appetito.